Chiudere l'anno sindacale è una reale utopia e tale resterà in considerazione delle tante vertenze in corso. Una provincia che continua a contare 270.000 abitanti che resiste alla crisi in grado di non vedere cancellate tutte le conquiste sociali che nei decenni sono maturate. Nel contempo è inutile nasconderlo. La provincia di Caltanissetta continua a non avere l'adeguata attenzione da parte di chi può e deve decidere le sorti delle due più grandi aree industriali. Caltanissetta gela per nulla sicure, sempre più poveri di servizi agli insediati e sempre più con capannoni vuoti. E' quanto dicono i segretari generali di Cigelle Cisle Will, Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania. Se dovessimo stilare una gradatoria, dicono, la provincia Nissena risulterebbe la più ingannata d'Italia, nella misura in cui ogni settimana qualcuno dei politici che contano si alza e annuncia finanziamenti per le infrastrutture materiali ed immateriali per la sanità pubblica, così da pensare meno nella triste voce di bilancio mobilità sanitaria per qualità degli edifici pubblici scolastici, per opportunità lavorativa in linea con gli studi e o qualifiche professionali conseguiti. Cigelle Cisle Will hanno accennato la resistenza degli abitanti rispetto ad un declino che si respira in ogni comune, dei 22 che compongono la provincia, con una esposizione dei sindaci e degli amministratori tutti, che non ha presidenza nella storia democratica istituzionale. Non abbiamo scelto di diffondere il documento politico di fine anno continuano perché abbiamo un obbligo legato a qualche protocollo, ma perché avvertiamo la necessità e l'urgenza di ribadire l'allarme povertà e spopolamento presente in tutti i comuni. Da dove arriva l'inganno? Da troppe parole vuote e svuotate nel significato sociale originario, invecchiate senza aver visto nascere l'oggetto degli annunci. Un esempio su tutti riguarda il destino, dei miliardi, del contratto d'aria, del patto per l'agricoltura, di tutta l'idea della programmazione negoziata che doveva far vivere un nuovo e sano protagonismo imprenditoriale e invece ha generato macchie nel deserto, capannoni senza alcun perché, se non quello di giustificare la spesa senza produrre occupazione. Le sigle sindacali continuano a rivendicare il ruolo dello Stato ed è per questa ragione che l'interlocuzione con il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, risulta per le forze sindacali utile, preziosa, puntuale per tutte le pertenze che investono il mondo del lavoro e con esso quello economico ed istituzionale. Se è vero che tutto si lega e ancora di più i fattori positivi devono essere preservati, CGL, CISL e UIL tengono a ricordare che il loro no alla paventata soppressione della Corte d'Appello è convinto e determinato. La qualità della vita dei cittadini dipende dalla solidità dei trasferimenti finanziari di Stato e Regione ai Comuni, ma dipende anche da come i sindaci si adoperano per evitare il collasso dei servizi alla persona, dalla riflessione scolastica al trasporto locale, all'assistenza agli anziani ed inabili. La resistenza dei cittadini di tutta la provincia riguarda anche la persistenza dell'organizzazione mafiosa che in modo silenzioso cerca di determinare scelte e affari e le operazioni antimafia registrate nel corso dell'anno ne danno ampia dimostrazione. Le sigle sindacali chiedono agli antipubblici ad iniziare dall'Inps un potenziamento dell'organico nei servizi di sostegno al reddito così da evitare la disperazione di interi nuclei familiari e lo studio congiunto di un nuovo protocollo di legalità che eviti parole da libro dei sogni e contenga misure da realizzare immediatamente.